Penso che le regole valgano per tutti, le stesse Questo è sicuro Volevo dire una cosa Per quanto riguarda il telefono, raga A prescindere che è dato che abbiamo visto che tu lo usi in orari fuori Non ti sto aggredendo, non voglio farti passare questo Però dico, non è corretto perché tutti abbiamo delle esigenze, tutti abbiamo delle persone a casa Comunque sia se hai bisogno magari Ce lo puoi dire, magari guarda ho bisogno di... Non è che noi ti diciamo di no Però come hai esigenza tu di sentire più tempo una persona anche noi Ma senza dubbio, infatti non avevo tempo Il problema è che non è rispettoso nei nostri confronti Perché? Perché non è rispettoso? Perché se noi ci sforziamo tutti di utilizzarlo mezz'ora E tutti quanti vivono persone da sentire a casa Non capiamo perché tu debba farlo Secondo, ci leverai del tempo dopo Perché ho detto palesemente che se facciamo le cose bene ci aumentano il tempo Se facciamo le cose male ce lo tolgono E siccome qua stiamo convivendo tutti e un po' come se fossimo una squadra Quando perdevano perdono tutti eh E siccome qua stiamo subito E siccome qua stiamo subito E siccome qua stiamo subito